Ciao Loneche, ciao a tutti gli amici di Vinology, io sono Elena ed io Paola, delle cantine del Castello Conti. Siamo molto felici di avervi qua nel nostro vigneto storico a Maggiora in Alto Piemonte e raccontarvi un po' di noi. L'azienda nasce nel 63 qui a Maggiora grazie a nostri genitori, papà Ermanno e mamma Mariuccia e papà è stato uno dei primi produttori a credere nel Boca, la nostra doc storica. È un vino a prevalenza nebbiolo che ha oltre nebbiolo, vespolina e uva rara. Oltre al Boca produciamo nebbiolo in purezza che si chiama localmente Spanna e altri vini tra cui Origini, che è il vino delle Maggiorine. Il quadrato alla Maggiorina è una forma d'allevamento molto antico dell'Alto Piemonte. C'è un ceppo centrale, come si può vedere dal video, dove ci sono quattro piante unite insieme, fatte crescere e aperte seguendo i quattro assi cardinali. Attorno alla forma d'allevamento, a questa forma d'allevamento ci sono otto pali di castagno che sostengono tutta la struttura della vite. La cosa molto interessante è che in queste vecchie vigne venivano piantate tante tipologie di uve diverse, dal nebbiolo, la croatina, la vespolina, ma anche a volte delle piante di bianco, che è l'erbaluce, che una volta si chiamava greco. Tutto questo insieme di uve formavano un vino molto interessante e molto pronto alla beva. In attesa di vederci presto, vi aspettiamo qui da noi per un brindisi. Presto!